Per comune, ci sono dei ragazzi di Galliera che hanno una maglietta, che hanno anche dei ragazzi della mia città e della mia regione. Queste magliette si riferiscono a un calabrese, a un imprenditore di Serra San Bruno, che si chiama Pino Masce, che proprio perché aveva parlato, aveva denunciato i suoi struttori, è dovuto andare via dalla Calabria e adesso potrebbe tornare in Calabria. Io penso di questa campagna simbolica sulla figura di Masce, ma che possa andare a chiudere tutte le esperienze che da questo punto di vista si fanno, sia una bella cosa, abbiamo fatto anche alcune cose in Calabria, vi vorrei a questo punto di vista complimentare per questa vostra campagna e per quello che fate. Grazie e grazie. 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 Grazie.